Che c'è? Le carte di credito non funzionano? Per favore puoi informarti, Mark? Certamente! Funziona, te credo che ne sai te. A noi il debito, credo, ci fa una pippa. Oddio, scusi. Sento un'attrazione irresistibile verso questa sconosciuta. C'ho gli ormoni che mi esaggetano come trode. Ecco i miei genitori. Mi sono fidanzato con una italiana. Ciao mamma! Figlia di due, ma ricchissime. Sfondati. Sfondati? Siamo sfondati, questo è vero. E chi lo lascia più questa? E chi lo lascia più questa? Sono qui fuori con un vestito rosso. Ma va a fare un culo, va. Giù! Vieni, parassita! Tu sei ospite qui da due anni. Dobbiamo trovare un modo per farli lasciare. Ci penso io. Se tu mi lasci stare qui ancora per un mese, loro si convincono che sono ricca, la cosa è fatta. Tu con questo ce scopri? Papà, mi conosci, sono un po' pulita. Ma che te fre... Ma dai a sempre, dai a senza limiti, dai a come il pane, dai a come il boomerang, dai a ritorna a chiari, dai! Che cosa fai nella vita? Ho un naiso. E te invece? Filologo. Ah, filologo! Lo facevo più un lavoretto da donne. E sto cantando... Chiudiamoli nel baure! Bubi, non è che tu hai problemi con l'intestino, vero? Fa controllare perfettamente il mio carpa! E' meritoria del premio, eh? Ma che è? Un vibratore dei faggiri? Siete purtroppo avvenuto un fatto increscioso o non esce? Eh, va bene, l'aiuterò io. Che devo fare? Sapevate che Spectre è decisamente il capitolo di James Bond più costoso? Il film ha avuto un budget di circa 350 milioni di dollari. Però... Per altre curiosità e tanti, tanti trailer, cliccate qui accanto. Qual è il vostro James Bond preferito? Il mio Sean. Insuperabile. Sean. Insuperabile.